Per noi c'è un tema che di centrale interesse e che riguarda ancora una volta, lo dico, il tema del rispetto del lavoro. La nostra è una professione che ha una forte incidenza e ricaduta sul sistema sociale, sull'architettura, la città, il territorio, quindi i luoghi in cui le persone vivono. E la qualità della progettazione di questi luoghi ricade direttamente sulla qualità della vita delle persone. Dunque si tratta di una professione con un elevato valore sociale. Se una professione come questa, un lavoro come altri ce ne sono, non viene rispettato nella sua dignità, pensiamo che ci sia via un sistema in cui qualsiasi tipo di lavoro non venga rispettato. E questo ci sembra assolutamente deleterio nel sistema sociale. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero dare l'esempio. Non sempre questo avviene perché noi parliamo di eco-compenso, di tariffe, di parametri. Dovremmo parlare anche di appalti al massimo ribasso. Io ho combattuto sempre gli appalti al massimo ribasso perché cancellano la remunerazione equa del professionista, ma cancellano anche la remunerazione trasparente del lavoratore dipendente. Perché quando il ribasso è spinto ad un punto tale da non poter applicare la tariffa salariale stabilita da un contratto di lavoro, vuol dire o che il lavoro è al nero oppure l'imprenditore rinuncia al guadagno, il che mi sembra abbastanza improbabile. E quando sono le stesse pubbliche amministrazioni o le aziende, diciamo così, di Stato, come si diceva una volta, a giocare sul massimo ribasso, danno cattivo esempio. C'è l'offerta economicamente più vantaggiosa che deve sostituire il massimo ribasso, ma sappiamo che alle volte è un'offerta che si basa in modo mascherato sulla qualità. Perché se il parametro fondamentale rimane il prezzo e non la qualità, è evidente che siamo al massimo ribasso mascherato. In più c'è anche il fenomeno dei contratti pirata, stipulati da finte associazioni di imprenditori, da sindacati compiacenti, non i sindacati CGL, Cislewil, che ovviamente rispettano gli standard dei grandi contratti di lavoro, insieme a Confindustria e le grandi associazioni, però sindacati minori che possono praticare la via dell'accordo pirata. Vale a dire, stabilisco che il compenso orario è la metà di quello stabilito da CGL, Cislewil e Confindustria. Si fa concorrenza sleale, si mette fuori gioco, diciamo, l'azienda sana e trasparente. Quando si scopre che addirittura alcuni ministeri possono utilizzare queste forme contrattuali, mi cadono francamente le braccia. Quindi io dico, regoliamo il capitalismo, mettiamo delle regole, delle soglie inderogabili, non derogabili, inderogabili, al di sotto delle quali non si scende. Sia perché lo si stabilisce attraverso un contratto di lavoro, che per me ha il valore della legge e la libera patruzione fra le parti, sia perché lo si stabilisce attraverso la fissazione di un limite di legge inderogabile, un parametro, una tariffa di carattere professionale o uno standard salariale fissato per legge per coloro che non hanno un contratto di lavoro.